Uè, non fare il tacco incacchiato! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi, informazioni per quanto riguarda il capitolo 2, season 1 di Fortnite. Fortnite oramai è l'unica cosa che è rimasta attaccata a quello che conoscevamo prima perché il game è totalmente rivoluzionato. Vogliamo ragazzi vedere nel video di oggi innanzitutto il trailer ufficiale di questo primo, di questo secondo capitolo e questa prima season con un sacco di roba al suo interno. Ieri lo abbiamo caricato nella lunghissima live di Twitch che abbiamo fatto, vi ricordo ogni giorno mi trovate dalle 8 in diretta, ma ci sono stati ovviamente dei problemi di copyright. Per quanto riguarda il caricamento da parte di tutti i leakers e abbiamo deciso di cancellare, poi è stato dato il via libera e quindi adesso è possibile farvelo vedere. Quindi un po' di news anche per quanto riguarda il buco ragazzi e ovviamente una bella sbadilata di leaks per tenervi sempre aggiornati sul dietro le quinte anche in questi giorni di Fortnite. Volevo prima però ringraziare tutti i ragazzi che hanno guardato la live di Twitch, siamo stati tantissimi, in questo momento siamo offline ma alle 8 ricomincerò lo streaming sperando che arrivi qualcosa di nuovo. Mi raccomando ragazzi iscrivetevi in tantissimi ai canali e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video. Prima però io ve la devo fare, la domandina, ci sta ragazzi, domandina che è veramente semplicissima, voglio sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Ma te cosa ne pensi di questo downtime dei server? Dai ragazzi è allucinante, sono più di 24 ore, oramai credo più di 30 ore che il gioco è offline. Tutti i server sono giù, tutte le parti relativi a Fortnite sono in manutenzione, non si sa nulla a parte appunto il trailer uscito ieri pomeriggio verso le 18. Io sono convinto che a questo punto nonostante il trailer sia veramente molto interessante quelli di Epic Games è meglio che abbiano le idee ben chiare e non facciano le pistolate perché lasciare la gente per più di due giorni senza Fortnite considerando la addit che c'è la dipendenza tra virgolette che c'è da molti giocatori su Fortnite è una cosa davvero pericolosa che rischierebbe di essere controproducente per Epic Games. Ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito allora a vedere questo trailer se non l'avete ancora visto ve lo faccio vedere signori il trailer ufficiale del capitolo 2 season 1 di Fortnite. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!